Guardare al satellite è fondamentale. Il satellite con la sua possibilità di coprire uniformemente tutto il territorio fornisce la possibilità di accesso a tutte le aziende, a tutti i cittadini. È una soluzione tecnologica complementare alle altre tecnologie, ma l'Europa se ne è accorta e con loro stiamo lavorando per coprire questo gap. Alla luce di queste considerazioni è importante fare un appello al governo e alle istituzioni perché guardino al satellite come una risorsa utile per la crescita del Paese. Infatti rivolgiamo al nuovo responsabile dell'agenda digitale, Francesco Caio, un appello per guardare e considerare il satellite come una delle tecnologie da utilizzare per la crescita del Paese.